Ciao a tutti ragazzi, io sono Erma e benvenuti in questo nuovo episodio della TheDropper Ok, nell'episodio precedente siamo arrivati fin qui, a livello numero 8, dove c'erano dei puntini sospensivi Io non ho guardato nulla, quindi andiamo a vedere che cosa ci aspetta Ok, un secondo che allontano il microfono Oddio Che figata assurda Che c'è, la perde Vabbè, quindi penso dovremmo, tipo, centrare la TAT Non so perché, ma, tipo, i fail me li ha resettati Boh, non saprei Oddio Dai, su Ecco No, mi ha resettati i fail, non è giusto Io ovviamente vado a prendere la cacca, quindi Ok, credo di averla rotta, eh Possiamo uscire? Sì C'è una cesta da qualche parte, eccola Gigi Intanto abbiamo dei polli random Ci fanno i polli, sono tipo gli acari Lol Comunque è una figata assurda Questo coso Cioè che poi, vedete queste cose giganti immense, no? Che poi alla fine Relativamente è perché ce n'è voluto di tempo Però Non è così difficile da come potete pensare voi Perché considerando Avendo, che ne so Word edit Installato Potete facilmente Dare avanti Quindi step by step In che senso step by step? Che tipo Dove andare da una parte all'altra ogni volta? Ok, sono qui E mo? Dove andare lì? Credo di sì Ho sbattuto brutalmente, però Vediamo che c'è scritto qua From here Step by step Grazie Gentilissimo Stavo cadendo Abbiamo regeneration Perfetto Da qui Andiamo qui Da qui Qui Ok Diamo E mo? E mo devo andare la? No, 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 no Ok Mondo vado Andiamo qua E mo? Dove devo andare? Lì Dio Se muoio bestemmio Ok Credo sia abbastanza difficile morire Da questo punto in poi Ok Non è stato così dannoso Come si credeva E però voglio trovare Il nostro diamante Ok Ho trovato la nostra cesta Che si trova tipo qui Quindi In caso Vorreste Vorreste giocare la mappa La cesta è qui Se non la trovaste Quindi Andiamo nel prossimo Livello Comunque È qualcosa di Molto fastidioso Questo Il fatto dei fail Che si reset Perché Mettendola così Poi Uno Non può tipo Rail Dove devo andare? No Allora No Come ho fatto? Spiegatemi Ho visto tipo L'acqua all'ultimo Come ho fatto? Va bene Ok Non so come ho fatto Proprio all'ultimo Tipo Ho cambiato direzione Quindi Bo L Inferno Qua morirò sicuro No 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 I am a fucking Pro Sottolineate Fucking Mi schia Oddio C'ho tipo Il mouse Perché io Tipo C'ho il portatile Noi ci ho toccato Uno di quei Mini mouse Quelli lì Piccoli No Tipo c'è il tasto destro Che sta tipo Morendo Quindi Tra poco Mi sa che dovrò Comprarne uno nuovo Perché sta Morendo Questo Dead Morte Perfetto Oh Oh Che è Sei Sei Imballato Ok Riavviamo Perché Boh Non lo so Che problemi Ha questa mappa È rimasto Schiacciato Dai Che è Questo Ok Penso Si era Si era Rappreso Si era Rappreso Ok Dove dobbiamo andare Oddio Che è Sto Cosa Che è Sto Cosa Ok Non so Cosa Si Che è Oddio Che è Lo scheletro Io ho sbagliato A strada Allora Mi faccio A prendere Quella cosa Da qua Allora Spero Che ce la facciamo A non morire Se arriviamo Lì Ok Perfetto Allora dovrebbe Essere relativamente Semplice Tipo Riesco a vedere L'acqua Ok Si ce l'abbiamo Fatta Tipo Fai Il mio diamante Tipo Sicuro Non c'è Nessun diamante No Lol Schwiftness Ah si perché Tipo È impossibile Arrivare lì Tipo Ci vuole Troppo Cosa serve Boh Tanta miliardi Di pozioni Oddio È fighissimo Cioè Tipo Posso Vederlo Direttamente Dall'alto Figata Sì ma non lo vedo tutto Cioè sono Sono anche a far Vabbè Comunque È una figata assurda Questa Tipo le scale Non fa niente Ok Cosa è qui Cosa c'è scritto No checkpoint Be sure to sleep I have your checkpoint Non farmi Wait till The scenery is loaded Optical No Che è Sono a far Sono a far Una figata assurda Come Come è possibile Una cosa del genere Cioè che poi Alla fine Sembrano tutti quanti I blocchi Uniti Va bene Non lo so Quindi andiamo avanti I misteri Di Minecraft Perché al contrario Sta strada What Mettiamo il diamante Qui Quali problemi hai Scusi Allora Prendiamo la night vision Una di speed Una di questa Così Oddio Mannaggia Che è The bedroom E le altre che servivano Boh Oddio Figata Perché tutte queste cose No Ok Look For the webs And the vines Follow the pumpkin Quali pumpkin Ok Una è questa L'altra è lì Sì vabbò Io devo prendere le vines Le peggio skill Perfetto Vediamo dove arriviamo Ok abbiamo la nostra pumpkin Ce n'è un'altra Ma che devo fare Devo andare lì Devo salire prima Cioè è impossibile Arrivarci normalmente Dove sto andando Ok un'altra pumpkin Save E mi sette direttamente lo spawn point Ok Un attimo Ok Ormai il telefono che suona random Mentre registro è tipo D'obbligo Nei miei video Se vabbò Gli anni Ci mettiamo Dai Ti muovi Boh Ma come sei lento Dai Ok Che è qualcosa What Va bene Ok Lol Un'altra pumpkin Seguiamo le pumpkin Va bene Vediamo dove ci portano Perché devo fare questi salti Della madonna Spiegatemelo Ok Dovrei farcela Scendi Gianni Swiftness Ce l'ho Ok Perfetto Ce la facciamo Sì E a voi Possiamo anche buttarci Che culo Assurdo Che è Ok Un'altra pumpkin Finito il livello Così Tutto questo scenario Assurdo No Ok Allora C'è Se uno lo guarda così No Che tipo Non c'ha Optifine Con zoom E cose varie Dice E' impossibile Che succede Questo Invece Tadà Veramente sta scendendo È normale C'è tipo Lì sembra Che risale Però Sono effetti ottici Mille 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 Ok Set Spawn Diamanti Non ne abbiamo Color No 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 Questa è quella che c'è nella miniatura Io ho preso da google Eh Lo dico È una figata assurda Questa Cioè ma La pazienza Per fare sto cosa No Boh Speriamo di centrarlo Il buco Ok No non l'ho centrato L'ho preso Come Non lo so Vabbè Cos'è random Andiamo C'è lo speed Qui Oh Dai Olè Via Questa è una Trafigata assurda Va Che Che è Che è un portale del nether What Oddio C'è sto questo che non va Ok allora Sì Siamo lo spawn The goal of this level Is to teleport In the nether Before It I think The goal The nether portal Has been Same As the road No Look straight Move only left And right No Io tiro la leva Perché Se No no Fermi Bassiamo un po' Il volume Sì ma Laggerò da fare tipo schifo Ok Se guardiamo Vediamo che dobbiamo andare tipo Sempre dritto Di qui Dai No Non ci credo Ok No Verso la Devo tenermi sempre verso la sinistra Mannaggia Vediamo se tipo da quello vediamo meglio No Non si vede Tanto Sì Skill Assurda Ce l'abbiamo fatta Oddio Che è Epico Oddio Che è sto schifo Io Qui non ci entro Che ho paura di dove andrei Ho paura Woman Heart Oddio Bellissimo È una figata No Il creatore Bigre È un mostro Io di questa mappa Voglio portare assolutamente Anche il 2 Ok Lo prendo eh Cazzo si spegnesse il fuoco Quindi Mi sa che tipo Quello del portale lì Ci portava Sempre dove ci porta questo Però Non voglio rischiare Che è sto coso Look Closer No È una figata Paurosa Again Again Di nuovo lo io Whee No è bello Bellissimo No È troppo Basta Ok Go back Aspetta Tipizziamoci Settiamo Spawn Di avanti Non ne abbiamo Ma lascerò Lascio tutte queste cose inutili Quindi Spero che questo Secondo episodio Vi sia piaciuto Stato così Lasciate un like Un commentino Lasciate un like Anche alla pagina di facebook Come ogni video Trovate nella descrizione Se volete giocare alla mappa Trovate il link Del download in descrizione Noi ci vediamo In un prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi